A Palazzo Ricchieri di Pordenone, sede del Museo Civico d'Arte, si è tenuto il finissage della mostra Un gioiello di fotografia, creazioni di Nuccio su fotografie di Euro Rotelli. Curata da Franca Benvenuti e promossa dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone. Nell'occasione, la donazione al Museo, da parte dell'artista Ora Fonuccio, della scultura Venere 2.0, opera realizzata ad hoc per la mostra, ispirata all'affresco allegorico raffigurante il pianeta Venere che si trova nel Museo Civico d'Arte. Dopo la consegna ufficiale dell'opera all'Assessore Comunale Claudio Cattarruzza, Carla Manzone e Viviana Piccolo hanno letto alcune riflessioni sul tema arte artigianato e Patrizia Bertoncello ha cantato alcuni brani della tradizione popolare, accompagnandosi con la chitarra e l'organetto. L'Assessore Comunale alla Cultura Claudio Cattarruzza. Si conclusa la mostra dei gioielli di Nuccio e delle foto di Eurorotelli, una mostra che ha riscosso qui al Museo Civico un importante successo di pubblico, ma è stata anche un'occasione perché Nuccio, artigiano orafo di grande qualità, ha donato al Comune di Pordenone, al Museo, alcune delle sue opere che si rifacevano alle opere presenti nel Museo. Tutto ciò andrà ad arricchire il patrimonio pubblico, cioè dei musei civici pordenonesi e soprattutto della città e soprattutto rappresenta una volta di più questa coniugazione fra arte in senso lato e più assoluto con quello che è una forma espressiva che si è trasformata in arte come quello di un artigianato di pregio e di grande qualità.